Comoda, tra l'altro, sta cosa. Vero? Comoda. Sbragarsi. A volte c'è quella definizione, che non mi ricordo come si chiama, dell'uomo, come si dice, no, offensiva, l'uomo con le gambe aperte, in metro, c'è una definizione, non mi ricordo, che è un modo per dire, non stare così, perché stai mostrando i gioielli e non è cosa carina, non è cosa buona e giusta, come avrebbe detto qualcuno. Allora, io non so da dove cominciare con te, perché non sei tu che parleresti per ore, sono io che ti farei domande per ore, non è una sviolinata. Prima ti sentivo giù sulla tua presentazione e ero molto affascinato. Poi ti vorrei chiedere cosa fai con i pazienti, ma un po' me lo aspetto, avendo avuto una formazione molto simile, anche se poi è andata a divergere su certe cose. E quindi la domanda va diventa che cosa gli chiedo a Bernardo, però in verità lo so cosa da chiederti, perché ci sono un po' di cose meno incuriosite qui, ma anche negli altri libri. Spiegami un po' la simmetria degli opposti, in poche parole. Poche parole, accidenti. Cioè come te è venuta, come la usi in psicoterapia, perché è molto affascinante, ti dicevo anche in un commento sul libro, però io non ci riesco a usarla, mi sembra difficile. Poi tu per me hai detto qualcosa come, no, è una questione di pratica, mettersi un attimo. Spiegami un po' tutto, cioè com'è nata, cos'è, come la usi. Ok. Allora, poche parole, non è facilissimo, ci proverò. Vabbè io vado. Puoi lasciare. Allora, dunque di base credo che tutto sia nato con gli aforismi, perché è stato un po' nel mio piccolo li considero un po' come i fringuelli di Darwin nel mio piccolo mondo. Cioè come sia possibile da una cosa piccola poter dedurre un sistema molto ampio, ok? Quindi da questi becchi diversi, no, di fringuelli Darwin che capisce qual è la teoria dell'evoluzione. E diciamo che in modo un po' parallelo per me l'aforismo è una roba straordinaria, cioè la domanda è com'è possibile 5, 6, 10 parole producono un effetto stravolgente. Per me questo ogni volta mi domando veramente com'è possibile, no? Pensa a un aforismo come quella di Paul Valery, che gli dice tutto comincia con un'interruzione. Allora, è un po' come se vedi un quadro di Bansky, non so se vi ricordate il crucifisso con i sacchi della spesa di Natale. Vedi un'immagine così e dici ok, non ho bisogno di altro, è già chiaro, no? Ed entra come un dardo. Allora mi sono detto ma com'è possibile? Cioè cosa c'è l'aforisma per essere così incredibile in poche parole? E allora da lì ho iniziato un po' a leggere e non ho trovato tanto, cioè si parla di una serie di elementi, però ho trovato informazioni anche abbastanza confuse, ok? Innanzitutto aforisma la usiamo molto più noi che in America ad esempio. Tu in America quando sono andato a fare un convegno in America parlare di aforismi, invece non sapevo neanche che esistesse l'aforisma. In realtà è che si dice sentenza, butad, frizzo, cioè ci sono tanti sinonimi, ok? Ognuno con una sfumatura diversa. Quindi che cos'è l'aforisma, ok? E indagando, secondo me ci sono sette elementi fondamentali che costruiscono un'aforisma, uno di questi è l'asimmetria. Cioè ogni aforisma ha in sé per funzionare una simmetria. E le simmetrie che funzionano meglio negli aforismi sono le simmetrie di opposti, cioè il fatto che tu possa all'interno di una stessa frase creare un contrasto, ad esempio un Oscar Wilde che dice ogni uomo mente, ma dategli una maschera, sarà sincero. Quindi menzogna, sincerità, simmetria opposto. Un altro aforisma ancora è se vuoi pulire qualcosa devi sempre sporcare qualcos'altro. E possiamo andare avanti. In alcuni è veramente esplicito come in questi casi, in altre volte la simmetria ad esempio è fra ciò che normalmente viene percepito e ciò che l'aforisma sta dicendo. Ad esempio una di Madre Teresa di Calcutta che dice qual è il giorno più importante della mia vita? Oggi. Ok, perché? Fa effetto. Perché di solito le persone se li fermi per strada e domandi loro qual è il giorno più importante della tua vita, se mai ti dicono la laurea, sono sposato, mio figlio che è nato, quando mi sono fidanzato, cioè è sempre nel passato, e allora il passato è in contrapposizione per simmetria di opposti, la risposta dell'aforisma è oggi. Ah, questo è soltanto uno degli elementi, però è veramente un elemento cardine. E da lì ho iniziato a dire, ok, ma in realtà tutto ciò che ho studiato in ambito terapeutico rispetta questa simmetria di opposti, perché le tentate soluzioni e le soluzioni sono in opposizione simmetrica. Se il problema è mantenuto dal parlare molto di un problema, la soluzione è smettere di parlare del problema. E andando avanti così ho detto, cavolo, cioè non è una roba che viene applicata così per un machillage o per un vezzo mio personale, perché, ok, mi sono messo a cercare le simmetrie, ma ci sono proprio le simmetrie nel rapporto fra problema e soluzione. E poi scopro che in realtà questa cosa qua è una branca fondamentale dello studio della scienza, in realtà poi della filosofia, e che comunque il mondo è fatto di simmetrie. I pianeti sono simmetrici, le foglie sono simmetrici, cioè è tutto simmetrico, le regole matematiche sono simmetriche, quindi ho scoperto che in realtà questo aspetto della simmetria, in particolar modo della simmetria degli opposti, è un po' come se fosse il DNA della realtà. Andando su una cosa, per esempio, che ho letto qualche giorno fa su Nature, c'è questo articolo in cui hanno visto come le persone che hanno il corpo più simmetrico, e la simmetria nel corpo a livello proprio di misure, ad esempio è correlata con la salute, con il più basso livello di mortalità, ma anche di morbidità, cosa c'entra la simmetria del corpo? C'è una correlazione stretta, e le persone più simmetriche ballano meglio, fanno dei balli più simmetrici, e i balli più simmetrici acchiappano di più. Diciamo, ma com'è possibile? Che senso ha questo? Se non per il fatto che la simmetria è una delle regole basi della vita. Tant'è che appunto in questo articolo fanno questo esperimento e hanno visto che gli uomini sono molto più bravi a ballare delle donne, e gli uomini simmetrici acchiappano di più degli uomini non simmetrici, come le donne simmetriche acchiappano di più delle donne non simmetriche, e le donne che ballano in modo più simmetrico acchiappano di più di quelle donne che ballano in modo meno simmetrico, e così l'uomo. E questo è spiegabile, sempre utilizzando la teoria dell'evoluzione di Darwin, perché? Perché in natura, gli animali in cui l'accudimento è maggiormente femminile che maschile, è l'uomo che deve conquistare la donna utilizzando dei danze cerimoniali, quindi è molto più importante che l'uomo sape ballare bene. Il compito della donna è selezionare bene, come seleziona? Con la simmetria. Tant'è che gli animali che hanno aspetti più simmetrici sono quelli che si accoppiano più facilmente. Il pavone che ha il numero di ocelli, mi pare si chiamano questi occhi, che sono più simmetrici, allora è diventato poi un'illuminazione, una piccola scheggia che in realtà stava rivelando qualcosa di molto più grande. Quindi quando sei con un paziente, mi sembra di capire che il tuo lavoro è molto basato su la selezione delle parole, l'essenzialità e la sintesi delle parole, giusto? Cioè la sintesi, fare una sintesi per poi trovare quella parola, poi magari quella frase, ma quella frase con ogni parola giusta al posto giusto. Come lo fai? Allora dunque, diciamo che caso di prima seduta classica, faccio una sorta di metal detector delle parole che la persona usa alla mia presupposto, è che se tu hai un problema e stai guardando la vita dal buco di una serratura, questo è il problema, hai una visione troppo ristretta. Se tu vedi il mondo da una serratura, solo dal buco di una serratura, tu usi necessariamente soltanto alcune parole per utilizzarlo. quindi faccio questa sorta di metal detector e inizio a chiappare le parole che la persona usa mentre descrive se stessa la vita, eccetera. Queste parole mi danno l'indizio di qual è il club psicologico di appartenenza e da lì mi parte il secondo metal detector che è il range di tutte le possibili tentate soluzioni fallimentari che normalmente nel pubblico, nel libro ne ho pubblicati una quarantina ma in realtà sono di più, ben di più le tentate soluzioni, credo più di un centinaio di sicuro. Quindi mi parte questa sorta di scanner in cui vedo quali sono, è come se fosse una sorta di massaggio in cui vai a sentire quali sono i punti in cui più facilmente i muscoli si contraggono, quindi è più facile avere una contrazione qui, una contrazione là, quindi vado rapidamente nei punti in cui più facilmente i problemi diciamo si contraggono e da lì inizio a costruire in simmetria di opposto. Aspetta fammi capire una cosa, allora la persona tu la ascolti, ascolti le parole che usa per descrivere cosa? Il problema? O se stessa o la vita, i primi minuti sono come da diciamo usuale lasciare la persona pensano a parlare un pochino più a ruota libra. Tra l'altro questo è anche provato scientificamente che funziona bene, hanno visto in delle ricerche scientifiche che se fai parlare troppo il paziente troppi minuti è totalmente inutile, ok? Ma se non lo fai parlare perdi un sacco di dettagli. Hanno visto che più o meno se tu lo fai parlare a ruota libra entro i cinque minuti hai tutto ciò che è il pacchetto completo di quello che ti deve dire. Quindi io faccio una domanda un po' aperta come è usuale, lo faccio parlare qualche minuto e poi attacco con le domande, ok? E a quel punto seleziono quali sono le tentate soluzioni principali, le possibili soluzioni che hai già messo in atto e inizio a lavorare. Nella selezione delle tentate soluzioni identifichi le parole che utilizza? Sì, una persona che usa tanto la parola rispetto perché la usi. Che senso ha nel tuo mondo utilizzare tante volte la parola rispetto? E la usi poi per creare degli aforismi ma in generale delle comunicazioni che abbiano un obiettivo? Ti faccio ad esempio in quel caso delle parafrasi anticipate in cui dico quindi sei una persona a cui piace moltissimo che le cose vadano in un certo modo quindi io ti immagino ad esempio per strada che sei con la tua macchina ti passa uno ti taglia la strada e tu ti arrabbi tremendamente vero? E la persona dice sì certo ok quindi per me è una parola grilletto rispetto faccio una parafrasi anticipata quindi una sorta di lettura a freddo no? La persona mi dice di sì capisco che fa parte il club dei valoreali e attacco con tutte le tentate soluzioni del club dei valoreali corrispondono vado avanti e a questo punto il mio lavoro diventa facile. Quindi riassumo per assicurare capito. Ari alla persona la fai parlare per avere un'idea del suo vocabolario, la sua rappresentazione del mondo tramite le parole. E del problema. E del problema. Vedi quali sono delle parole forti, dense per descrivere il mondo e il problema. Attorno a quella parola ci leghi tutto quello che ci può essere attorno quindi rispetto la storia del ti stanno sul cazzo quelli che ti passano e ti tagliano la strada perché è un qualcosa che si lega. Bene. Nel momento in cui hai dei feedback che ti dicono sì, li metti in uno dei club psicologici e da lì ci sono legate le tentate soluzioni quindi magari anche la tua indagine è più facilitata. Ok. E poi il lavoro è smontare le tentate soluzioni. Ok. Fico. Mi piace. E a livello strettamente… Questo è un obbligo, un incastro in cui ho visto che è bene mettermi. Ok. Ok. Perché ogni tanto mi viene anche a me un po' la tentazione di essere molto più narrativo. Ok. Però se io mi obbligo a incastrarsi la persona in una narrazione che io gli sto imponendo ho visto che questo è molto più utile. Come quando per esempio in ambito nostro di terapia breve siamo molto affezionati all'interpretazione cibernetica. Qual è il rapporto di causalità negli eventi, no? Nell'interpretazione cibernetica come funziona? Che io percepisco una determinata cosa, X. Questa percezione mi fa mettere in atto Y. Ok. L'ambiente mi risponde in questo modo e questa reazione mi conferma la mia percezione e mi conferma la mia reazione. Questa è la descrizione cibernetica. È vera? Non lo so se è vera. È un incastro. Perché io devo obbligarti a pensare che tutte le volte che tu sgridi tua figlia, e non è vero che tutte le volte lo fai. Non importa. Tutte le volte che sgridi tua figlia, perché lei ha fatto... Oh, faccio la descrizione cibernetica. Ogni volta che vedo mia figlia figlia che non mangia un cibo che secondo me è importante, mi sento impotente, questo mi porta a sgridarla o a cercare di renderle appetibile, a venderle il prodotto, il cibo che io voglio che le mangi. Lei ogni volta si chiude e mi dice no mamma, non voglio mangiare. Faccio un esempio pratico di una paziente avuto qualche giorno fa. È vero che ogni volta che fai così? No. È vero che ogni volta hai questa percezione? Neanche. È vero che ogni volta tua figlia fa così? No. Però se tu prendi questo trend e prendi questa descrizione, funziona. Quindi nella tua mente, nella mente della paziente c'è, io ogni volta che cerco di vendere un cibo a mia figlia e darle un'ottima pubblicità, in realtà lo sto squalificando e mia figlia non mangerà quel cibo. Questa è una descrizione cibernetica da cui conseguirà una prescrizione che è non vendere quel cibo. Tant'è che Milton Erickson diceva che con i suoi bambini, lui diceva a casa mia è vietato mangiare roba verde. Siete troppo piccoli, roba verde si mangia da una certa età in poi. Quindi vietato, verdure, siete troppo piccoli, mi raccomando. La prescrizione del sintomo, riconosciamo già da qui. Certo. Però, come dire, è un incastro benefico. Quindi questa visione matematica, tra virgolette, della simmetria è un incastro benefico. A me piace, a me piace perché, come diciamo anche prima, nel momento in cui metti poi dei costrutti al tuo servizio, tu hai citato James prima, il pragmatismo. Von Glasserfeld ci diceva che non deve essere vero, deve essere utile. Voglio però capire una cosa a livello proprio comunicativo. Se questa posizione mi rende triste, aspetta. No, 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 metti in una posizione felice. Ok, anch'io. Mi sto ingobbendo e mi sento di profondare. Ti faccio portare un… Mi sento un po' più. Oh, cambia, la prospettiva cambia. Ok, sì, sì. Carino. Quanto usi l'indiretto e quanto il diretto nella comunicazione? Allora, l'indiretto e il diretto, anche qui ci sarebbe da esplorare che cosa significa per te diretto e indiretto. Facciamo conto che abbia capito che cosa vuol dire. Allora, diciamo che la reinterpreto nel mio linguaggio, che è quanto sono stretto e quanto sono a maglia larga. Tendo ad essere molto a maglia stretta nella prima fase dell'intervento, cioè leggo le tentate soluzioni, ci devono essere prescrizioni che bloccano e invertono le tentate soluzioni e questo è fatto in maniera esplicita, ovvero che anche gli aforismi e le immagini che utilizzo sono molto focalizzate là. Non c'è possibilità di misunderstanding, non è possibile che io ti faccia un'immagine analogica e che tu legga qualcos'altro, ci leggi ciò che io ci sto mettendo. Quindi la prima fase dell'intervento è molto così. C'è una seconda fase in cui allargo molto. Adesso sto utilizzando questo format di One Long Session, Venezia, tre giorni, io e un paziente, in giro per Venezia, meraviglioso, divertentissimo. One Long Session. Andiamo in giro per Venezia, ci mettiamo un tavolino, parliamo, camminiamo e poi per esempio questo il venerdì, il sabato appuntamento al Guggenheim Museum. Sempre con la stessa persona? Sì, una persona sola per tre giorni. No, Venezia. Non esistono loro, non esistono. Non esistete. Perché se attacca uno poi gli altri ci si mettono ancora. Tre giorni. Long Session. Sì, sì, sì. Ok, chiaro, chiaro, chiaro. Ok. Quindi sono tre giorni intensivi, tutti attaccati e ad esempio vado appuntamento di obbligo al Guggenheim Museum. Andiamo al Guggenheim e passeggiamo. Parliamo, ci sediamo di fronte alla tomba di Guggenheim e dei suoi cagnolini e poi di solito gli faccio fare un giro dentro appunto il museo e ad esempio una delle, la prima volta che ho fatto questa One Long Session, ho visto che questo cliente, più che paziente, perché si fa coaching più che psicoterapia, era particolarmente estasiato dall'artista e gli ho chiesto di scegliere un quadro che lo colpiva. E siamo rimasti mezz'ora a fargli raccontare che cosa lo ispirava di questo quadro e naturalmente lì ho messo il mio pezzo perché gli ho fatto, creato anch'io delle connessioni rispetto a perché secondo me lui aveva scelto quel quadro, ok? Ed è stato un momento, un'epifania, lui l'ha chiamata un'epifania, tre epifania, un'epifania al giorno mi ha scritto poi una mail e una seconda epifania è stata quando di fronte a questo quadro, perché era disgregato come si sentiva lui disgregato, ok? C'erano pezzi del mare, pezzi della sua infanzia e lì è un strumento proiettivo in cui a quel punto parte la maglia larga e questa è, al di là della one long session, il momento per me fondamentale della terapia. Maglia stretta, maglia larga e poi ci salutiamo. Fai solo queste tre giornate? Così, in questa one long session? Sì, 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 fantastico. È bello. C'è una preparazione, mando delle mail di preparazione, devo capire se è giusta il percorso, se è giusta la persona, se gli obiettivi sono concreti, ad alcuni ho detto no, cioè devi fare psicoterapia, questa cosa non è adatta. Come ti è venuta in mente sta cosa? Volevo fare qualcosa e non ha fatto nessuno. Fantastico. Sì. È bello, è così che deve essere la psicoterapia, no? Non puoi stare incastrato in un modello, in un modo di fare le cose. E neanche una postura, adesso ci rispettiamo di nuovo. E neanche una postura. Devi fare, mettiamoci in modo simmetrico, oppure opposto, nel senso di… Devi fare il tuo modo di fare psicoterapia. Mi sorprende perché pensavo che fossi… In realtà mi avevi già precedentemente sorpreso. Perché pensavo che fossi molto più stright, no? Stright edgico, ok? E invece già quando mi avevi detto che ti eri interessato alla fototerapia… Sì. Interpreta i sogni. Interpreta i sogni. Flavio, interpreta i sogni. Che cazzo… Funziona, funziona. Mi piace. Io non interpreterei mai i sogni ad oggi. Poi vengo dalla tradizione junghiana, quindi un po' ne so. Però non è importante, cioè non è giusto, ok? Deve funzionare, deve essere utile. Poi non è vero perché ogni tanto mi ria qualche persona che mi chiede… E se è funzionale, come dicevano già Wickland e colleghi, no? Posso usare l'interpretazione se mi è funzionale come ristrutturazione all'interno della seduta, non come interpretazione psicodinamica del conflitto o quello che è. di solito dico così. Durante il sogno… Durante il sonno, scusate, anzi scusa perché loro non ci sono… Durante il sonno quello che accade è che il corpo si rigenera, ok? Le nostre cellule accade questo, ok? Tant'è che le persone che dormono poco hanno la pelle che invecchia più facilmente, ok? Quindi il sonno è legato all'autoriparazione. E se i sogni non fossero nient'altro che un tentativo che il nostro cervello fa per autoripararsi? Ok. I sogni sono storie che il nostro inconscio produce per autoriparare se stesso, soltanto che spesso non ci riesce, ok? E allora se tu riesci a decriptare il significato contenuto nel sogno, riesci a far sì che il sogno arrivi fino in fondo, ok? E quindi di solito nell'interpretazione uso dei miei codici, in particolar modo descrivo sempre che ci sono due tipi di sogni, uno descrittivo e uno risolutivo. Quindi un sogno che descrive le tue trentate soluzioni, descrive il tuo mondo, descrive i tuoi temi costanti. Ci sono anche dei sogni con dei proposti di soluzione che l'inconscio ti sta facendo e di solito ci azzecca, ok? Quindi aiuto le persone a codificare queste… E anche l'uso della simmetria. La simmetria rispetto all'interpretazione del paziente. Una cosa classica che si fa quando si sogna è pensare che tu che sei dentro il sogno sei te stesso, no? In simmetria di opposti c'è no, tu non sei il te stesso nel sogno, tu sei l'altro, tu sei il gatto nero che hai sognato, tu sei un oggetto che è presente nella scena, tu sei un altro personaggio presente nella scena del sogno. Tu non sei te stesso, sei l'altro, che questa è simmetria di opposto. Cioè questo funziona. Certo. E gli dici ok, il gatto nero che hai visto, che cosa ti direbbe se tu gli dessi il microfono, che messaggio ti darebbe, ok? E vengono fuori cose molto interessanti che velocizzano la terapia. La brevità dove sta adesso nella tua terapia? La brevità sta nell'uso delle quantità di parole che utilizzo, anche se mai non sembra, però sì, cerco. Sta nella quantità di minuti che passano nei pazienti e sta nel numero delle sedute. Comunque è sempre un tuo focus, sempre l'idea sono un terapeuta breve. Sì, sì. Non vuol dire un terapeuta rapido, un terapeuta veloce, un terapeuta sbrigamose. L'efficienza è il motivo, la natura funziona per efficienza, ok? Perché una bolla è sferica? Perché? Potrebbe avere tutte le forme del mondo. Perché proprio sferica? Perché la natura ragiona per efficienza, cioè per il consumare meno energia possibile, la natura funziona così. E credo che la terapia breve sia la terapia che più si avvicina alle scienze naturali, perché ragiona sul principio di efficienza, cioè devi ottenere il massimo utilizzando il minimo. Perché devo farti un pippone se te lo posso dire con un aforisma. Mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace perché oggi l'abbiamo detto più volte anche qui, rimetti come terapeuta al tuo servizio, e quindi al servizio della terapia, al servizio della persona, quello che ti è utile. Quindi devi fare la verità, togli l'idea, e no, devi fare così perché è vero, perché è questa la cosa da fare, e rimetti invece al centro il… devi fare questo perché funziona. E se interpretare i sogni o se, I don't know, la teoria dell'attaccamento, le MDR o l'ipnosi, funziona con un asterisco che ora dico, lo uso. L'asterisco è ovviamente la brevità in questo senso. Certo che funziona l'interpretazione dei sogni, da Freud funziona, però se nella maniera psicoanalisi… Da prima sì, pensavo nell'ambito della psicoterapia, come la intendiamo oggi. Se nell'ambito della psicoanalisi, una meta-analisi, ci dice, del 2012, ci dice che la media, la durata della media è, non mi ricordo, 150 sedute o 200 sedute, allora interpretare i sogni in quel modo, poi non c'è solo l'interpretare i sogni, vente, sto semplificando, in quel modo non è efficiente. Se me ne porti un altro di modo che mi permette di passare da 150 a 10, a 7, a 15, ok, la userò così, la metto al mio servizio. Sti cavoli se qualcun altro dice è vero o non è vero. Tant'è che puoi fare terapia strategica senza fare terapia breve. Certo. E puoi fare terapia breve senza fare terapia strategica. Assolutamente. Se dovessi di pensare a me, io penso di essere un terapeuta che fa terapia breve. Sì, mi piace. Tu mi hai detto una cosa, spostiamoci un attimo come ultima parte. Mi hai detto una cosa che mi è rimasta proprio impressa. Maestro degli aforismi, ormai zack. Eramo in macchina e tu mi dicesti, il successo per me è, cioè per te, è il rapporto tra originalità e autenticità, mi ricordo bene, giusto? Sì. Me lo spieghi sulla tua pelle, sulla tua vita? Come si è declinato? Come sta andando? Allora, ma, dunque, ognuno ha la sua definizione di successo. Certo, mi interessa la tua. La mia definizione di successo? Beh, realizzare il senso della mia vita, questa è la mia definizione di successo. Come si sta declinando la tua vita in questo momento? È troppo ampia questa domanda. L'ultima domanda e fai una domanda così. No, poi c'è quella standardizzata. Ah, ok, ok. Guarda, non rispondo a questa domanda, rispondo a quella sull'originalità e sul sapere mettere insieme la capacità di essere originale rispetto al mercato senza perdere la propria autenticità. Cosa significa? Allora, essere autentico secondo me significa che ti rendi conto dove hai sbandato, ok? Quali sono stati i drammi della tua vita e renderti conto che quei drammi ti rendono te stesso, ok? Quindi lì c'è la tua parte più autentica. Per me autenticità significa anche talento. E il talento non è una dote individuale, ma è una dote interattiva, interazionale. Cioè il talento non è una roba che sai fare, è una roba che a te riesce meglio degli altri e che ti riesce con meno fatica degli altri. Questo è il talento. Carino, mi piace. Quindi questo lato qua è talento e autenticità. Dall'altro lato c'è il mercato, l'originalità. Cioè, diciamocelo, un tempo era molto più facile vincere, tra virgolette, sul mercato. Più competitor ci sono e più è complicato, va bene? Quindi tu puoi essere l'artista, per esempio Magritte su questo per me è stato geniale. Lui a un certo punto, beh lo conoscete tutti, Magritte ha fatto quadri meravigliosi tipo l'uomo con la bombetta, con la mela davanti, insomma. Il calciatore del Real che ha vinto un sacco di… Sì esatto, proprio lui. Lui a un certo punto ha cambiato totalmente stile e ha iniziato a fare un nuovo stile che però non vendeva. Non vendeva. E ha dovuto cambiare e tornare al vecchio stile perché quello vendeva. E questo per me è un insegnamento perché tu puoi essere il più autentico del mondo, il più talentoso del mondo ma se non ti realizzi nel sistema in cui vivi, nell'ambiente in cui vivi, nel mercato in cui vivi, ti mancherà sempre un pezzo. E allora devi sapere mettere insieme queste due esigenze. Quindi originalità per me significa di nuovo simmetria degli opposti. Cosa fanno gli altri? Esattamente fai l'opposto. Tu dici che tutti facciano video, io ho fatto i dialoghi scritti, i papiri… Mi dici che serve il video, le frasi brevi, io ti faccio un post senza video e lunghissimo. Tu mi dici che le sedute devono durare un'ora e le faccio durare tre giorni. Tu mi dici che… ok, quindi io costantemente… per me questo è un afformamentis divertente, proprio divento un gioco. Poi non è detto che necessariamente questo comporti il successo, ok? O che l'attività funzioni. Non importa. Per me è sperimentazione. Se non sperimenti non sai neanche, no? Le persone di successo non sapevano che avrebbero avuto successo prima di aver avuto successo, no? Filamotto ha portato da Mondadori, quindi insomma qualcosina… Ha funzionato. Tra le varie cose. Per esempio a proposito di successo c'è un aforisma di Bernard Shaw, che è un altro dei miei supereroi, insieme a Darwin. Lui dice ogni persona di successo si è alzata ogni mattina alla ricerca di un'occasione. Questo mi sembra molto indicativo. Ed è questo lato del, chiamiamolo, originalità-mercato. Cerca un'occasione. Mi piace. In cui realizzare la tua unicità, originalità e il tuo talento. Ti vorrei fare mezzo milione di domande. Devo farti l'ultima. A parte quattro… Pillole preziosissime da… Cioè se si riesce a declinare questo… Se chi vede il video riesce a declinare questo secondo me… A me è servito molto, mi ha dato molto su cui lavorare, su cui raffinare anche. By the way… Ultima domanda. By the way l'ho usato in modo improprio perché non significa questo. Comunque sì. Immagina che ci sono gli psicologi che ci stanno ascoltando e tu gli vuoi dare un consiglio su un esercizio da fare nella vita di tutti i giorni che possa permettergli di allenare una loro competenza, un loro talento, una loro capacità o di scoprire qualcosa che poi gli sarà utile all'interno della psicoterapia, della seduta, delle sedute con i pazienti. Qual è il consiglio di esercizio che gli suggeriresti? Allora dunque… Credo che sia imparare a unire, come dicevamo prima nella presentazione, capacità di scrittura con capacità di parola. Ok. Quindi imparare a parlare come scrivono e a scrivere come parlano, cercando di far confluire le due cose. Ok. Cioè se tu vuoi diventare un bravo psicoterapeuta non devi parlare a caso. Ok. Cioè ogni parola deve in qualche modo avere questo lato sia espressivo di quello che sei però anche di efficacia. Ok. Quindi lo inviterei a stare molto attento alle parole che usa e non necessariamente tutto il giorno. Per esempio c'è James Penbaker che è stato il più grande analizzatore della scrittura terapeutica. Lui si registrava, aveva questo registratorino, e si registrava le cose che diceva e poi analizzava i propri discorsi. Ok. Quindi riscriveva ciò che diceva per cercare di autoallenarsi ma anche per analizzarsi. Ad esempio facendo così aveva scoperto che trattava suo figlio e sua figlia in maniera totalmente diverse. Sua figlia in maniera molto emotiva e suo figlio in maniera molto distaccata. Ok. Quindi suggerirei di andare in giro registrandosi. Ok. Trascrivere la registrazione e immaginarsi come avrebbe potuto dire quelle cose diversamente in modo tale che sia non solo espressivo ma anche utile per la persona con cui ha condiviso la serata, la birra, il caffè o una conferenza. fantastico, bello, mi piace. Bernet, grazie mille. Grazie a te. Grazie, grazie a te, grazie. Grazie a te. Bene. Grazie a te. 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 Grazie a te.